Il cuore grande della Inno Living batte forte per la Croce Rossa Italiana di Senigallia. Si è svolta giovedì 6 aprile ad Ancona la cerimonia di consegna di un pulmino ibrido per il trasporto delle persone con disabilità. Il mezzo è stato acquistato proprio grazie al contributo dell'azienda di healthcare e piccoli elettrodomestici. Inno Living, guidata da Danilo Falappa, fondatore e direttore generale e dal presidente Mauro Bisci, è da sempre vicina alla comunità e già negli scorsi mesi era andata in aiuto dei territori di Ostra, Pianello e Senigallia, donando elettrodomestici e idropulitrici per il tramite della crisi senigalliese alle famiglie colpite dall'alluvione. Fin dall'inizio abbiamo cercato di aiutare il territorio nel quale operiamo e siamo davvero grati per tutto quello che ha fatto la Croce Rossa a suo tempo, sta continuando a fare e farà e questa è un'iniziativa che ci permette di supportare ulteriormente un'attività così importante per il nostro territorio. È un'attività che praticamente stiamo proseguendo e che abbiamo iniziato da tempo, diciamo così che No Living è sempre stata molto attenta, diciamo così, alle attività sociali e al territorio nel quale opera. Di qui è una collaborazione rinsaldata fino alla donazione di un mezzo moderno, utile e già pienamente operativo per aiutare le persone con disabilità e quelle fragili. Per quel che riguarda questo pulmino disabili è un contributo importante, soprattutto in supporto della comunità e di persone che effettivamente ne hanno realmente necessità. È un mezzo ad alimentazione ibrida, gasolio ibrido, può contenere e alloggiare fino a 9 persone e nell'eventualità 3 persone disabili con carrozzine. Verrà utilizzato per il servizio sul territorio, per il trasporto di disabili, per il servizio di dialisi che noi abbiamo nel territorio di Senigallia e nell'entroterra in tutta la provincia di Ancuna. Già da oggi si può dire che è operativo, appena torneremo in sede su tutto il territorio. Dopo la consegna, i rappresentanti della Croce Rossa Italiana di Senigallia hanno omaggiato il No Living con due targhe per ringraziarli del contributo dato nel supporto alle famiglie in difficoltà nel periodo alluvionale.